Manca l'aggancio alla zona playoff il Gravina che non sfrutta il turno casalingo del vicino cedendo le armi ad un combattivo rotonda. I Lucani passano con il punteggio di 1-0 in terra murgiana e tornano a sperare nella salvezza diretta. Gara decisamente da dimenticare per il team di Summa e Ragone, poco incisivo in zona gol. Ritmi piuttosto bassi nella prima parte di gara, al quindicesimo buona chance per il giallo Blu Reikiki che da posizione defilata non riesce ad inquadrare la porta. Poi Gravina nuovamente pericoloso con il cross di Tom Massone dalla sinistra e il colpo di testa di Diop che finisce di poco a lato. Alla mezz'ora attraversone dalla destra di Carmude, colpo di testa in tuffo di Dimo Dugno che manca di pochissimo il vantaggio. Si va a riposo con il punteggio fermo sullo 0-0. La ripresa si apre con la botta su punizione dei 30 metri del Lucano Ferreira. Straordinaria la risposta di Mascolo. Al cinquantacinquesimo nuova occasione per i murgiani con il piattone di Cristeschi dal limite. Sfera nuovamente alta sopra la traversa. Al sessantesimo però la palla del vantaggio e si piedi di Chacon che però trova l'opposizione di un attento polizzi. Il Gravina non riesce a sfondare. All'ottantesimo si materializza la beffa. Mascolo interviene in maniera irregolare su Ferreira e il direttore di gara assegna il penalty ai Lucani. Dagli 11 metri lo stesso Ferreira è glaciale. Mascolo battuto e rotonda in vantaggio. Gigli e compagni provano a reagire nel finale ma sono i Lucani ad andare vicini al raddoppio con il raso terra di Adeiemo lanciato a rete. Mascolo si distende e blocca in due tempi. Assalto nel finale del Gravina e palla tagliata per Cristeschi che non riesce ad agganciare a pochi passi dalla porta spegnendo di fatto le ultime speranze dei murgiani. Finisce 1-0 per il rotonda che conquista tre punti vitali in chiave salvezza. Tanto rammarico invece per il Gravina che non riesce ad agganciare la quinta posizione utile per i playoff. La corsa resta comunque aperta per i murgiani che il prossimo 4 maggio affronteranno in trasferta il Molfetta.